Toc toc, c'è nessuno? Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Sì, benvenuti a casa vostra, all'interno della vostra casa creativa Sono qui, di passaggio, stavo registrando i video da mettere sul mio canale Ombretta In cui vi aspetto e siete iscritti su Ombretta? Qui c'è il link, andate e iscrivetevi perché ho appena aperto un giveaway strabello E allora, quindi, mentre registravo i video ho detto Mi fermo un attimo, vi ho già fatto gli auguri a tutti nel video precedente Li ho fatti anche su Facebook, ma voi lo sapete Io ci tengo ogni anno a bussare sui vostri schermi e ad entrare nelle vostre case il giorno di Natale Per abbracciarvi virtualmente, per dirvi grazie di aver trascorso questo Natale In mia compagnia, con la preparazione, con i lavoretti Per assicurarvi, non vi preoccupate, adesso tornano i video un po' più seri Ma anche questi molto creativi E soprattutto, per augurare a voi, alle vostre famiglie, un felice, sereno Natale Che sia, come dico ogni anno, un Natale del cuore Io ci tengo molto a questa cosa Che sia un Natale dentro di noi, più che fuori Indipendentemente dagli orpelli, dai regali Che sia un Natale che renda sereni Che riappacifichi soprattutto con se stessi E magari anche con qualcuno con cui abbiamo avuto a che dire durante l'anno Bene, io vi voglio un mondo di bene E quindi auguri a tutti, ma proprio tutti Indipendentemente dal credo religioso Che sia un giorno felice, speciale, spensierato Di rinascita e di sollievo per tutti Buon Natale a tutti Alle vostre famiglie Continuate a festeggiare E andate a mangiare una fetta di panettone Anche per me Grazie, grazie di cuore Per inondarmi del vostro affetto E noi ci vediamo sempre qui Per il prossimo video Che sarà creativo, promesso Un grande bacio E buon Natale a tutti Ciao da arte per te E dalla vostra ombrettina Ciao